Fiat Panda 1.3 Multijet, turbodiesel, è una van due posti, immatricolata ad ottobre 2008, è un neroquatto con filtro antiparticolato e, attenzione, attenzione, ha percorso solo 28.000 km, davvero incredibile, è una ex telecom, ha il suo carnet della manutenzione, quindi possiamo certificare e dimostrare la percorrenza reale. Andiamo ora a visionarla nell'interno. Uno sguardo alle gomme, che sono ancora in ottime condizioni, ed ora visioniamola bene nell'interno. Ecco il suo cuscotto, il vano radio, il tasto city per le manovre, l'aria condizionata assolutamente immancabile e naturalmente al servosterzo da questa vettura. Ecco i chilometri, 28.000, incredibile, veramente incredibile. Con una percorrenza così bassa, i sedili non possono che essere in perfette condizioni. Ed ora visioniamo il vano di carico, con la sua rete di protezione sui vetri. Questo cassone per il carico degli oggetti che volete occultare, molto comodo, vedete si apre e c'è la sua serratura. Vediamola anche da questa prospettiva. Molto bene, questa vettura la potete visionare e provare all'Alintica, a Castelletto di Banduzzo, in provincia di Pavia. Se la vettura è di vostro interesse, visitate il nostro sito per avere più informazioni e chiamateci immediatamente o mandateci un WhatsApp. Grazie per l'attenzione.